Ho visto la partita della nazionale, poi sono andato al Cina, poi ho mangiato me, coso, 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 eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la cosa facile è, Giggio, ma quant'è auto? Non mi metti dopo vicino ai insigni e fai fare tutta la figura in insignia. Allora, coso, coso, cinque volte, pronti? Uno, due, tre. Coso, 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 coso. Sì, ma che è? Il coro delle suore del sagrum. Non ha il microfono. Si sente il microfono? Mariano, Mariano, Mariano. Mariano, Mariano, si sente il microfono, Roberto Benigni. Mariano, ma faccio la voce. Guarda che non ha voce, però cose, cose, cose. Allora, vai. Quando faccio il rap, per favore di un'overdosa. Applausi al Cina. Allora, al mio via, cinque cose, pronti? Uno, due, tre, via. Coso, 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 frate, coso. Da questi cinque... What's up here? Sto fermo. Sto immobile. No, ma faccio la battuta. Adesso, a questi cinque, aggiungete un frate e un coso. Quindi, coso, 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 un frate coso. Pronto? Uno, due, tre. Coso, 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 frate coso. Coso, 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 un frate coso. Quindi, quando faccio il rap, un frate coso, cinque coso, un frate coso. Cinque piante. Due. Coso, 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 un frate coso. Sono vent'anni che faccio questo pezzo, ora mi vuoi dire tu a me? Quante panna. Sì, senti, ma con ce l'ho cambiato, ci ha copiato. Esatto, è vero. Ma, ma, una cosa di prima. Cioè, abbiamo detto di che lì. Però, sì, sì. Sì, sì. Lorenzo, cioè, Lorenzo, 108 su 110. 108 su 110. Per lui è stata... Quindi, guardo cosa. La laurea, abbiamo preso 39 su 110. Ah, ok, sì, sì. Sì, tutti e due abbiamo preso. 118. Aereonautica spaziale. Ma, senti, ma con questi tre super campioni, che cosa puoi fare? Tu che inventi qualsiasi cosa, mi ha fatto il capodanno insieme, tu prendevi uno e inventavi. No, io invento. Il problema è che mi avete fatto entrare subito, mi sono ritrovato loro. E allora, un attimo, dico. Ci siamo. Alza un po' il volume del microfono, per favore. Grazie, sei davvero gentile. Gentile, sì, grazie. Allora, è uscita una mia nuova canzone, che si chiama Signorita con Nina Zilli. Non canterò quella, ne facciamo un'altra. Allora, questa canzone si chiama, ed è diventata popolare a Napoli, Disco di Platino. E' una canzone che si chiama Coso Coso Coso. E' facile, no? E' facilissimo. Allora, Coso Coso Coso, ragazzi, è facile. Spiediamo un attimo alle persone non napoletane che cosa vuol dire Coso Coso Coso. Spiegami bene perché non capisco. Il signor Gambilla, dalla Valle Coste. Dai, non so. Allora, Coso Coso Coso, in realtà...